Roberta Dilaura che premia maestro e riceve il premio da una ballerina fantastica, Roberta Dilaura, grazie Roberta, noi ci vediamo tra un po', ci vediamo tra un po', grazie. E' olandese, è stato presidente per quattro volte dell'associazione della stampa estera. Un sacco di talenti ho notato anche Roberta Dila, è una bella soluzione, io conoscevo già a Roberta Dilaura, che è veramente una famosa, molto conosciuta come ballerina. Grazie